un saluto da dottor palmas dimostro ora un caso spettacolare di un paziente uomo adulto con i denti completamente consumati dal bruxismo e il parodonto distrutto dalla parodontite questa è la situazione di partenza che abbiamo risolto col nostro sistema bocca bionica denti mancanti nelle zone posteriori denti anteriori invecchiati distrutti dal bruxismo un paziente che aveva perduto l'osso a causa della piorrea e i seni macellari molto espansi quello che abbiamo fatto è stato riprogettare completamente il sorriso questi sono i denti provvisori con cui il paziente è stato sei mesi e questo è il tipo di chirurgia al quale si è sottoposto presso il nostro istituto abbiamo posizionato quattro impianti nell'arcata superiore parte anteriore e due impianti speciali pterigoidei nelle zone posteriori per evitare le zone di vuoto dei seni macellari nella parte inferiore abbiamo messo sei impianti a reggere così due arcate provvisori avvitate col quale il paziente ha avuto il tempo di far guarire poi l'osso e le gengive quella che vedi qua è l'attacca tridimensionale prima sul lato sinistro denti con la parodontite mancanti sul lato destro gli impianti dentali inseriti vedi nelle zone posteriori gli impianti pterigoidei che ci permettono di sostenere la masticazione nelle zone posteriori senza correre il rischio di far rompere i provvisori oltre che i definitivi abbiamo a questo punto proceduto a fare una preview di quello che era il risultato ottenibile di dove avremmo dovuto posizionare i denti nel display del sorriso e quelli che sarebbero stati i volumi da bio emulare con i tessuti artificiali queste che vedi sono due protesi realizzate partendo da delle scansioni di denti reali denti perfetti che vengono scansionati vengono portati nel progetto digitale al computer e riprodotti con il robot nota come lo zirconio grazie le sue proprietà di opalescenza e traslucenza crea questo effetto iperrealistico grazie alla luce che riflette da questa sensazione di denti vitali e madre perla qua è come se il paziente avesse una collana di perle sul viso nota come le gengive si integrino in maniera perfetta con i colori anche delle labbra del paziente nota come le superfici dello smalto sono ultra dettagliate e questo è un paziente che mostra il pieno del suo sorriso riabilitato questo è un paziente veramente ha ritrovato la gioia di vivere un paziente che può mostrarsi agli amici ai colleghi alla famiglia senza più doversi vergognare dietro a una mano che nasconde il sorriso spero che ti sia piaciuto questo caso ti ricordo che il sistema bocca bionica permette poi al paziente di avere in cloud memorizzati sui nostri server delle coppie di riserva dei propri denti denti che sono del tutto indistinguibili da dei denti naturali in quanto sono proprio delle repliche di denti reali